cari amici e amiche di un sorriso in più family buongiorno sono simone e sono pronto a raccontarvi gli eventi del weekend della settimana appena trascorsa con la rubrica settimanale sportiva come state tutti bene partiamo subito parlando della serie a il campionato vede due sfide principalmente la sfida per la lotta a retrocessione e la sfida invece per quanto riguarda la qualificazione alla champions league per quanto riguarda la sfida la qualificazione alla champions league ci sono quattro squadre nel giro di tre punti e le squadre più in forma sembrano essere al momento atalanta napoli che infatti nelle ultime tre partite di questa settimana sono riusciti entrambe a ottenere almeno sette punti infatti napoli ha vinto per 2 a 0 contro il torino per 5 a 2 contro la lazio e ha pareggiato 1 a 1 con l'inter mentre per quanto riguarda l'atalanta ha vinto 1 a 0 con la juventus match importantissimo che ha visto vincere l'atalanta grazie alla maggiore intensità la maggior voglia di portare a casa il risultato e infatti alla fine anche con un pizzico di fortuna ci sono riusciti e oltre al pareggio con la roma e la vittoria con la juventus ha ottenuto anche una vittoria netta per 5 a 0 contro il bologna infatti al momento si ritrova l'atalanta seconda in classifica col napoli terzo in classifica per quanto riguarda invece le altre squadre che lottano per la champions le squadre sono juventus milan e lazio juventus e milan si trovano a pari punti col napoli però in queste ultime giornate hanno sprecato parecchie opportunità per per poter stare più tranquilli infatti la juventus nelle ultime tre partite ha raccolto solo quattro punti beh come aveva oggetto la sconfitta con l'atalanta poi ha vinto contro il parma ed infine all'ultima giornata ha pareggiato con con la fiorentina la juve si vede che non è in un momento brillante ma piuttosto in un momento di crisi deve ritrovare la sua identità e vedremo se in questo intenso finale di stagione riuscirà a portare a casa i risultati per raggiungere la qualificazione alla champions league anche perché altrimenti sarebbe un bel un bel flop che potrebbe portare a molti cambiamenti per quanto riguarda il milan che partito campione d'inverno poi ha continuato sempre al secondo posto adesso anche il milan comincia avere delle difficoltà complice anche l'assenza di ibraimovic che è stato fuori le ultime partite per infortunio il milano raccolto solo tre punti nelle ultime tre partite vincendo solamente la gara col genova e andando poi a perdere con con il sassuolo per 2 a 1 e con la lazio per 3 a 0 lazio che grazie a questa vittoria si è rimessa in corsa champions infatti si trova solamente a due punti di distanza da juventus napoli e milan e quindi è ancora un finale tutto da un finale tutto da vivere per questa corsa la champions anche perché l'inter invece che si trova in vetta la classifica ha continuato a portare a casa i suoi risultati ed è molto vicino alla vittoria matematica del dello scudetto uno scudetto molto importante perché sarebbe il primo dopo nove anni di continue vittorie del della juventus e quindi potrebbe segnare l'inizio di un di un cambiamento o comunque finalmente qualche squadra riesce ad avvicinarsi a quel prototipo di squadra che è sempre stata la juventus in questi anni dominante che vuole anche andare a far bene anche in campo europeo qua come potete vedere si vede la parte alta della classifica con l'inter in testa che aspetta solo la certezza matematica per la vittoria del campionato atalanta al secondo posto napoli juve milan che si trovano a pari merito con gli stessi punti e lazio leggermente indietro però bisogna contare che ha una partita da recuperare e quindi può avvicinarsi ulteriormente mentre questa è la parte bassa della classifica dove si può vedere la lotta per la salvezza col cagliari che nelle ultime partite ha fatto un exploit è riuscito a fare ben nove punti in tre partite ovvero vincendole tutte e ha rimontato su benevento torino spezia e fiorentina quindi anche qui si pronuncia un finale di stagione molto intenso tutti non vorranno sicuramente andare in serie b vedremo chi chi riuscirà ad avere la meglio quindi adesso vedremo chi la spunterà in questo finale di stagione c'è chi come me che magari tifa milan e che quindi spererà che la squadra riesca ad arrivare a qualificarsi in champions o chi ti fa atalanta chi napoli juventus sarà una bella sfida tutte vogliono vogliono arrivare lì tutte sono squadre molto attrezzate forti e quindi sarà sarà il risultato di ognuna delle ultime partite a decidere quale sarà il destino mentre chi invece è tifoso dell'inter può già quasi iniziare a festeggiare per la vittoria dello scudetto per quanto riguarda invece altri avvenimenti c'è stata questa settimana la promozione del del como in serie b non succedeva da sei o sette anni e adesso finalmente come in serie b e punterà a rimanerci se non a salire nella della massima serie ovvero la serie a per quanto riguarda invece gli avvenimenti la prossima settimana oltre al proseguito del campionato ci saranno anche le semifinali del dell'ambita champions league e le semifinali vedranno contro paris saint germain contro manchester city e real madrid contro celsi saranno partite stupende di un livello tecnico altissimo e sarà tutto da gustarsi chi arriverà in finale e chi poi porterà a casa il titolo con questo è tutto io vi saluto e spero che vi sia piaciuto molto il video ci vediamo al prossimo appuntamento settimana prossima con la rubrica settimanale sportiva ciao